benvenuto stefano messina presidente di assarmatori e del gruppo messina buongiorno a tutti partiamo da un bilancio di questo 2023 che si sta chiudendo un anno molto complesso un anno che innanzitutto a livello geopolitico ha visto un incrementarsi delle tensioni mondiali quindi una sempre più diffusa situazione di pluralità di guerre quindi tendenzialmente da esseri umani tragico e questa cosa delle conseguenze nel mondo del trasporto non solo del trasporto marito del trasporto in generale dei global trade del commercio della produzione dell'industria dei consumi quindi un anno che ha visto deteriorarsi le performance tendenzialmente in tutti i settori del trasporto soprattutto quello contenitori e delle materie prime al contrario invece del mercato nel trasporto petrolifero liquido e chimico derivati che sta vivendo invece un anno due anni molto buoni legato comunque fondamentalmente anche questo agli effetti della guerra russa ucraina alla minore capacità di approvvigionamento da parte di alcuni paesi e come le dicevo il nostro è un mestiere che risente fortemente in termini poi di scambi commerciali di quello che succede nel mondo e questo è un pessimo presupposto per il 2024 come vede ma allora il termine pessimo spero che non si realizzi indubbiamente i presupposti sono di un anno molto sfidante gli indicatori non sono positivi assolutamente perché comunque c'è una sempre maggiore spinta all'aumento della capacità di trasporto le navi hanno maggior dimensioni sono più efficienti sono anche orientata a una transizione ecologica quindi a combustibili meno inquinanti c'è un maggiore utilizzo soprattutto del gas liquefatto che oggi è l'unica alternativa al bunker quindi al combustibile seppure a basso tenore di zolfo tradizionale usato dalle navi le navi si stanno molto molto modernizzando e stanno anche avendo dimensioni superiori quindi c'è un aumento della capacità un aumento dell'offerta che incide sui prezzi siamo tornati da operatore ovviamente rappresentante degli armatori dico purtroppo a livelli di costo del trasporto molto basso dico purtroppo perché è andato a incidere vertiginosamente sui margini e sui profitti delle società di trasporto nello stesso tempo è anche venuta meno quell'emergenza durata un paio d'anni nel periodo del covid anche se i noli dovrebbero riprendersi forse proprio in virtù di quella situazione geopolitica di cui si parlava qualcuno fa previsione di ripresa dei noli è una visione molto di breve termine anche se la storia insegna che nel mondo dell'armamento del trasporto marittimo previsioni di lungo termine sull'andamento dei noli è impossibile farne è curioso perché a volte confrontandomi con magari amici imprenditori manager coinvolti in altri settori dell'impresa è veramente poco credibile quando noi che operiamo nel trasporto spieghiamo che è impossibile fare delle previsioni sulla dinamica dei prezzi è facile farla sulla dinamica dei flussi delle quantità e dei volumi perché questi sono abbastanza solidi e anche si riescono a prevedere invece è impossibile sul piano sul piano dei prezzi è incredibile la volatilità dei margini delle nostre società fino al 2019 marginalità negativa per tanti anni consecutivi picco 20 22 triennio 21 e 22 straordinari ma con margini che dal 6 7 per cento sono andati al 30 35 per cento e il 2023 di nuovo un anno normalizzato ma accennato appunto alle nuove navi nuovi combustibili allora parliamo della sostenibilità ambientale della corsa alla decarbonizzazione insomma far viaggiare navi sempre più pulite peraltro a fine dicembre siete andati alla camera dei deputati insieme a rina confitarma proprio per raccontare lì la vostra visione in che direzione bisogna andare perché sia qualcosa di veramente credibile fattibile e con regole uguali per tutti però oggettivamente noi armatori in generale ma in italia e in europa siamo all'avanguardia ma non perché io debba auto promuovere quello che facciamo ma perché lo insegna la nostra civiltà la nostra industria e la nostra tecnologia noi siamo sempre partiti prima e nel mondo gli armatori europei e tra questi noi italiani abbiamo sempre anticipato i tempi rispetto ad esempio ai cinesi agli indiani o ai greci stessi oggi noi stiamo spingendo per la decarbonizzazione abbiamo già iniziato con una serie di normative internazionali che poi vengono recepite dal nostro ordinamento le quali vengono rigidamente e giustamente controllate dalle capitanerie di porto e delle amministrazioni per arrivare a situazioni in cui la emissione di co2 diminuisca ci vuole tempo sarebbe illusore una presa in giro dire che in pochi anni le navi come anche gli aerei i camion le automobili le industrie non emettano più co2 da cittadino siamo tutti d'accordo che questo pianeta lo stiamo distruggendo è oggettivo però siamo partiti ci vuole pianificazione ci vuole soprattutto una tecnologia che non sta noi armatori produrre noi compriamo sul mercato i prodotti che l'industria mette a disposizione e quello che mette a disposizione lo compriamo ci vogliono anni di ricerca sviluppo ma ormai siamo partiti è importante che le regole siano uguali per tutti noi europei subiamo oggi una tassazione entrata in vigore con dei provvedimenti nel 2021 i cui pagamenti la cui decorrenza inizierà adesso dal primo gennaio del 2024 in cui noi pagheremo delle tasse rispetto a chi non opera in europa ben felici di pagarle insomma felici no ma le pagheremo ci adeguiamo importante noi chiediamo l'aspetto centrale che queste tasse vadano a disposizione dell'industria quindi dell'industria nostra per fare investimenti in ricerca sviluppo nuovi combustibili oppure per adeguare navi magari di seconda mano di 10 15 anni ancora sul mercato per avere degli impianti all'avanguardia per emettere meno il 2023 per lei ha significato l'ingresso al cnel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come consigliere spiega questa carica cosa comporta se ne è ricordata sì devo dire a livello personale sicuramente un grande riconoscere riconoscimento perché il cnel organo lo voglio dire non esecutivo quindi così alla genovese mi dire non conta niente non mi senta il professor brunetta presidente del cnel però non ha un ruolo esecutivo però è un organo i cui membri sono nominati dalla presidente del consiglio dei ministri di indirizzo sui temi di economia del lavoro all'interno del quale otto rappresentanti del mondo del lavoro e dell'economia siamo io rappresento su designazione di conf trasporto che è la più grande confederazione del trasporto della logistica qui quindi ricomprende non solo il trasporto marittimo ma anche ovviamente tutte le altre modalità il nostro settore e quello che voglio dire che lo farò nell'interesse di tutti non è una nomina in cui io non avrò il dovere cosa che farò molto rigidamente di raggruppare tutti gli interessi non solo di quelli della associazione che rappresenta ma di tutto il settore perché comunque è un dovere di responsabilità di etica ma anche di interesse per farlo in maniera da essere ascoltato e non come un elemento di parte e a proposito di lavoro il mondo degli armatori di cosa ha bisogno si parla spesso di crisi di vocazione di mancanza di personale magari italiano la situazione dei contratti di cosa avete bisogno direi che noi continuiamo ad avere bisogno e a investire su professionalità vorrei ricordare che all'interno del nostro settore qui quando parlo di trasporto non lo limiterei al mondo armatoriale ma lo metterei anche al mondo della portualità del cluster chiamiamolo marittimo portuale dove non si parla di licenziamenti non si parla di lavoro irregolare non si parla di salario minimo cioè poco spesso si ricorda che nel nostro settore anche negli anni meno facili in cui magari le imprese soffrono in termini di risultati economici c'è sempre una spitta alla crescita del lavoro all'investimento sulla sicurezza all'investimento su sulla sulle professionalizzazioni che sono molto molto importante si pensi se un imprenditore che mette in mano ai propri colleghi collaboratori mezzi che valgono decine o centinaia di milioni le gru di un terminal contenitori o un traghetto o una nave da carico se li mette in mano a della gente di cui non si fida in cui investe quindi questo è un problema contingente quello delle professionalità dove comunque anche con le parti sindacali lavoriamo molto molto a braccetto a volte magari con momenti di conflittualità però devo dire che anche sotto questo punto di vista mi faccia sottolineare che la conflittualità tra mondo datoriale e mondo dei rappresentanti dei lavoratori è molto venuta meno perché comunque noi stessi imprenditori nella nostra visione dobbiamo avere dei collaboratori dei colleghi che siano contenti che abbiano anche la giusta retribuzione perché possono esercitare al meglio i propri doveri a cui chiediamo visti proprio come una ricchezza ma certo ma non a parole a chiacchiere no sa quelle cose le slide le brochure cioè è veramente così passiamo ai temi un po più locali magari qui anche proprio nella sua veste di presidente del gruppo messina ma anche come assarmatori perché genova è investita da veramente genova e la liguria da opere come non mai complice anche i fondi del pnrr la diga è la opera più attesa sappiamo che dovrà essere conclusa entro il 2026 che i lavori sono iniziati e già c'è una modifica pare del progetto soprattutto per quanto riguarda la parte più diponente lei ha tante attese immagino proprio per quest'opera consentirà le grandi navi di cui parlava quelle che si stanno costruendo e che già sono nei nostri mari di poter entrare in sicurezza all'interno del nostro porto assolutamente non lo limiterei a un aspetto dimensionale delle navi che è fondamentale ne ho parlato prima ma lo sottolineerei in funzione di che cosa è genova genova è un porto in grado di accogliere tutte le tipologie di navi se no rischiamo di pensare alle mega navi contenitori oltre i 400 metri invece bisogna pensare che lo sviluppo di genova e la diga è fatta per accogliere in sinergia tutte le tipologie di navi pensiamo ad esempio alla crescita delle autostrade del mare dove abbiamo i più grandi operatori leader al mondo gli armatori italiani nei primi cinque gruppi al mondo nel mondo roropax che vuol dire quindi trasporto misto contemporaneo di merci e passeggeri primi cinque gruppi al mondo tre sono italiani e vengono tutti e tre a genova allora non mi limiterei al discorso delle navi che vadano a pra e vengano a san pier d'arena contenitori ma è fondamentale continuare a crescere e dare spazi a questi operatori armatori che nei terminal di genova possano crescere e possono soprattutto questo è l'aspetto fondamentale che ha un impatto numerico sui capex sugli investimenti più basso ma è ancora più importante per rendere completo e complementare il progetto digo che è quello dei collegamenti ferroviari quello che oggi è stata una priorità del mandato del presidente dei signorini che sicuramente il commissario avvocato paolo piacenza porterà avanti è quello di accelerare in contemporaneità ma forse direi anche prima della realizzazione della fine del terzo valico e del rendere quadruplicato il tortona rugoredo milano i collegamenti ferroviari infatti se non ricordo male entro la fine del 2025 dovrebbe essere completato tutto il collage dall'ultimo miglio in poi preparatorio come diceva lei al terzo valico che è l'altra grande opera attesa poi per poter collegare rapidamente con il nord dell'italia poi si spera anche con il nord dell'europa con treni finalmente da 750 metri un'opera che nel 2023 ha subito un po' discossa al timore di uno scippo di fondi poi tutto confermato nel 2026 viene confermato che dovrebbe essere chiuso il cantiere certo non si andrà a milano in 50 minuti ancora si partirà magari a canna unica ma mi conferma che per gli operatori resta un'opera fondamentale seppur un po' ancora zoppa perché del quadruplicamento non ci sono fondi e non c'è ancora un progetto definitivo glielo confermo e addirittura le dico che oggi dovessi scegliere tra le due è più importante della diga cioè paradossalmente ci sono tre anni e mezzo ancora di governo è un governo che ha ridato attenzione al mondo del trasporto ai temi marittimo portuale tramite una serie di interventi non solo tramite l'istituzione del ministero del mare della costituzione del comitato della programmazione delle opere del mare fa capo al ministro Musumeci che dipende dalla presidenza del consiglio ma soprattutto direi per le deleghe date e per la nuova direzione del ministero delle infrastrutture e trasporti dove sia la parte porti che trasporto marittimo hanno ripreso una centralità qua ricordiamo oltre al ministro Salvini che ha voluto legittimamente dare le deleghe al vice ministro Rixi che non tanto perché è genovese perché sarebbe un po' limitativo quanto perché conosce molto bene perché è genovese da quando è nato, cresciuto e ha sviluppato la sua carriera i temi marittimo portuali ma nei interessi di tutto il paese Lei ha una sua idea sulla riforma della natura giuridica delle autorità portuali di cui si discute ogni tanto? Sì, ho un'idea che ovviamente è sintesi di idee raccolte all'interno della nostra compagine e io continuo a essere convinto del ruolo pubblico dei porti, del fatto che abbiano sempre più una visione governata dal centro proprio perché è un po' quando le dicevo prima il discorso di Genova di poter avere diverse tipologie di traffico in export e in import ecco l'Italia è un po' la stessa cosa, il fatto che i porti siano pubblici e dipendano da Roma, dal ministero ha la funzione che magari è Roma che fa delle scelte e non invece si mettano a fare concorrenza porti limitrofi sulla stessa tipologia di merce dove poi si debba rendere diseconomico l'investimento pubblico sulla banchina o sui collegamenti stradali o ferroviari la logica di porti pubblici centralizzati secondo me è l'unica che deve esistere E a Genova sappiamo c'è un commissario, appunto Paolo Piacenza che dovrebbe finire il suo mandato alla fine del 2024 in coincidenza con quello che doveva essere il termine del mandato di Signorini l'anno 2024 in cui si dovrebbe disegnare anche il nuovo piano regolatore portuale del porto di Genova la preoccupa il fatto che il porto sia sotto commissario? questo potrebbe rallentare? Pensa che sia urgente invece la nomina di un nuovo presidente magari ancora prima della scadenza del mandato o comunque prima della redazione del nuovo piano regolatore portuale? No, non mi preoccupa perché comunque il commissario è già operativo da un po' di tempo all'interno dell'autorità di sistema portuale credo che abbia gli strumenti sul piano del diritto, sul piano della sostanza per poter realizzare gli obiettivi credo che sia importante il contributo che tutti gli operatori ma anche il mondo dei lavoratori penso alla compagnia unica o al mondo sindacale possano dare questo lo riferisco in relazione al piano regolatore portuale nuovo chi meglio degli operatori, dei terminalisti, degli armatori, gli agenti marittimi o chi ci lavora sa quelle che sono le esigenze poi l'amministratore pubblico che fa un mestiere molto difficile probabilmente fare l'amministratore pubblico o il presidente dell'autorità di sistema Mar Ligua e Uncidettale deve essere uno dei mestieri più difficili complesso amministrativamente in termini di procedure oltre che di responsabilità di scelte farà le sue scelte e se ne assumerà la responsabilità e per definizione le rispetteremo ma vogliamo essere messi in condizione di poter dare un contributo sostanziale perché poi siamo noi quelli che investiamo a questo punto risorse private accompagnate a quelle pubbliche che sono ingenti ma delle quali poi bisogna avere un ritorno in termini economico e di lavoro c'è un po' un punto nero forse nel porto di Genova sempre a caccia di spazi le aree ex silva c'è un continuo braccio di ferro tra le istituzioni locali possiamo dire l'azienda da un lato ma anche il governo dall'altro non si riesce a trovare una quadra di questa situazione quando ci sono imprenditori che si sono candidati invece ad entrare operativamente in quelle aree rendendole la parte ovviamente non utilizzata molto più produttive creando posti di lavoro sarà l'anno buono 2024 oppure si continuerà così per anni senza questa è veramente una vicenda devo dire paradossale ma direi anche vergognosa abbiamo delle aree pubbliche con un modestissimo tasso occupazionale una produzione pressoché inesistente fortissima domanda di spazi ma qua non mi riferisco a spazi per noi armatori e terminalisti cioè il posto migliore dove fare la logistica delle merci o addirittura la produzione è vicino alle banchine perché fu illuminata la scelta di fare le acciaierie a Taranto o a Genova o le raffinerie a sud della Sicilia o nella Sardegna del sud perché la materia prima che arriva in banchina se poi ha la produzione vicino è vincente questo ha fatto dell'Italia la seconda industria europea e la fa tuttora ci sono, noi abbiamo come azienda numerose richieste ma veramente, ma tante nel corso degli ultimi due anni di trovare spazi dove fare logistica manipolazione, movimentazione della merce prima di arrivare alla produzione e all'industria non abbiamo spazi non abbiamo spazi tutti i terminalisti occupiamo le aree cercando di ottimizzarle e poi abbiamo Cornigliano dove c'è l'erba alta, il fieno un po' di contenitori vuoti, tanti però voglio dire non c'è ricchezza non c'è produttivo qui ormai da due anni abbiamo fatto numerose aziende tramite, probabilmente poi ci dovrà essere una gara a evidenza pubblica ci mancherebbe altro una serie di manifestazioni di interesse per sollecitare chi di dovere ovviamente poi non entro nel merito delle difficoltà tra il comune la società per Carnigliano la Acia Italia quindi la joint venture insieme agli indiani di ArcelorMittal però ecco questo è abbastanza direi molto più che un punto nero un puntone chiudiamo invece col sorriso perché Genova nel 2024 dall'11 al 14 marzo ospiterà un grande evento di CLIA l'associazione internazionale delle compagnie croceristiche che rappresenta il 95% praticamente di questo mondo cosa succederà? c'è grande aspettativa devo dire siamo anche tesi positivamente perché quando si fanno nuove imprese c'è sempre una tensione positiva preoccupazione al fatto che vengano realizzate bene è una manifestazione che veramente in joint tutti i soggetti pubblici principalmente la Camera di Commercio il Presidente Atanasio il Segretario Generale Cavigli hanno creduto dall'inizio a questa proposta che è venuta dal mondo degli armatori di crociere e oggi la nave da crociera è la massima espressione di modernità tecnologia comfort sicurezza è un mercato che continua a crescere un mercato che dopo i due o tre anni del Covid è in forte recupero tutte le compagnie sono in forte recupero e l'Italia è il primo mercato europeo per la bellezza del nostro paese evidentemente è una conferenza mondiale in cui Genova ha battuto proprio uso il termine sportivo ha stravinto rispetto a numerose altre candidate è un evento che se poi riuscirà l'obiettivo è renderlo stabilizzato magari biennale questo si vedrà ma concentriamoci su marzo che è domani tutte le compagnie verranno e la cosa bella è che verranno espositori di tutto il settore dove il mondo delle crociere ha una trasversalità straordinaria perché dal mondo dei mobili le cucine, le ceramiche, i fornitori di cibo di beverage e dove la supply chain del mondo delle crociere raggruppa proprio tutto il mondo industriale, commerciale e direi anche artigianale e sarà la grande opportunità per far vedere anche a operatori locali quindi liguri ma forse anche direi italiani limitarlo a Genova sarebbe riduttivo possano candidarsi anche a lavorare per questo mondo che ha la ricerca di cose di buon gusto che diano emozione che lasciano un qualcosa nell'utente che è il crocerista dove la nave poi è la cosa di ferro che contiene tutta questa cosa qua ma l'esperienza della crociera è un'esperienza dove veramente aziende locali possono avere opportunità di lavorare e di diventare fornitori anche perché nel mondo delle crociere il marchio Italia comunque va sempre tantissimo dall'alimentare al design e non solo quindi iniziamo a raccontare anche ai nostri telespettatori che quando sentiranno dire CLIA che significa Cruise Lines International Association stiamo parlando di questo alla Fiera del Mare di Genova dall'11 al 14 marzo tanti stand a non solo tante occasioni di incontri di approfondimento di questo mondo che porta anche tanta ricchezza e lavoro grazie, grazie Stefano Messina e ci vedremo presto buon lavoro, grazie auguri grazie 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 a tutti.